Sono il capitano Uncino, eccolo qua, via! Ah, verde, si passa! Brun di partenza, via! Si riparsa! Ma tanto è sembrano verde! Guarda questa strada com'è stretta, andiamo piano piano, e qua cadiamo di sottomoriato. Qua c'è il dirupo, a sinistra, c'è un bel dirupo, la strada è stretta. E' strettissima, siamo attenti, questo coso qua è un po' pericoloso, ma è il fondo e lo stretto, andate ad agio, ad agio ad agio ragazzi, è molto pericoloso, mi sembra quei molti tailandesi. Ah, meno male, si è allargata la strada. Si è allargata la strada. Ecco il motociclista con la barba, il banduto. E poi non c'è tanto traffico? No, siamo solo, siamo solo noi! Avete mai pensato di allevare nutrie giamaicane? Bellissimo! Ma quelle mangiano la Maria! Suo marito è molto simpatico per me! Per nutrie giamaicane, si mangiano la Maria! Buon pomeriggio da Trieste! Dove siamo? Dove siamo? L'Abruzzo! Tra le montagne dell'Abruzzo! Siamo sui rinforzi qua! E' un po' che è insuicato! In Torrente Cacatina! Questi colline come si chiamano? Bellissimo! Questi appennini! Mi è morto una zanzana! E' un po' che era sbagliata per giocare, così a parte della pioca! L'Abruzzo è stato colore! Madaglia! Tutti sono mesi! Non mi è inquadrato! Non mi ha più ricordato! Non mi ha più ricordato! Non mi ha più ricordato! Attenuto ai cangori dell'Abruzzo! I cango dell'Abruzzo! ci andiamo a fare un tuffo vi facciamo vedere sansate io mi chiamo dottore di famiglia dobbiamo comprare le maschere, gli occhialini perché gli animi dobbiamo raccogliere le bongo qua è pieno di bongo c'è una galleria che è piccola buone le vongole qua stanno le vongole ci sono le telline i dannolicchi ciao dottore ho un dolore guardate che ferro quando finisce la live adesso che arriviamo siamo quasi arrivati facciamo vedere sansalvo trivento dobbiamo andare prima al decadron ah dobbiamo andare al decadron siamo sempre là in 24 ore su 24 altro che il grande fratello facciamo i grandi cappe non c'è il grande fratello